Buonasera a tutti i nostri telespettatori, se siete pronti facciamo un po' il riassunto di quanto è accaduto oggi nella nostra zona, fino a questo momento ovviamente. Intanto una notizia di cronaca, nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo residente nel comune della Piana Fiorentina per stalking nei confronti di una ragazza della Valdiniavole. Le indagini del commissariato di Pescia sono partite dalla denuncia della giovane che ha raccontato di essere vittima di continue minacce ed aggressioni da parte dell'uomo con il quale ha avuto fino a pochi mesi prima una relazione nel rapporto interrotto quando la stessa ha scoperto che questi era ancora sposato. I comportamenti dell'uomo, come l'essersi presentato in più di un'occasione sotto casa della donna per tentare di riallacciare i rapporti, hanno fatto scattare la denuncia per atti persecutori. Riscontro e le investigazioni della Polizia hanno quindi portato all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, visto il rischio di reiterazione del reato. Dopo l'interrogatorio di garanzia l'uomo è stato comunque messo ai domiciliari. Ora i titoli delle principali notizie di questa giornata. È positivo il bilancio del progetto portato avanti alla parrocchia di Vicofaro a Pistoia per monitorare i bisogni dei migranti ospitati e trovare soluzioni. Se non arriveranno soldi però l'iniziativa rischia una brusca interruzione. Brutta esperienza per un cane che ha ingerito una sostanza velenosa trovata in un parco pubblico di Pistoia, una normale passeggiata con i padroncini, poteva diventare un incubo per l'animale salvato per miracolo. Aprono i cantieri sul torrente Fermulla nel Quarratino. I lavori sono del Consorzio Ombrone e del Genio Civile. L'alluvione nel centro della città fu provocata proprio da quel fosso in piena. Partenza col botto per Sanremo. Tutti o quasi hanno visto la prima serata della Kermesse Canora. Tutti o quasi hanno espresso i primi giudizi sui cantanti, sulle canzoni e sulla lunga diretta. Angelo Del Chiaro e Demetrio Gabriele Ielo fanno il punto della situazione in casa rispettivamente di Pistoia Basket e Pistoiese. I biancorossi sono attesi da campionato e Coppa Italia e gli arancioni invece vanno verso un turno di riposo. C'è infatti la Via Reggio Cup e il campionato si ferma una settimana. Vediamo che cosa è stato detto di nuovo per quanto riguarda Vico Faro, il centro di accoglienza migranti, il progetto che c'è in corso. Per poter vedere veramente arrivare anche a conclusioni di percorsi delle persone più fragili occorre sicuramente tempo e in questo tempo ovviamente occorre anche che ci sia un finanziamento adeguato per poter proseguire proprio per non vanificare tutto il lavoro che è stato fatto. E' la valutazione espressa da Anna Maria Celesti, vice sindaco di Pistoia, assessore al sociale e presidente della Società della Salute Pistoiese, circa il progetto portato avanti negli ultimi quattro mesi alla parrocchia di Vico Faro, progetto finanziato con 30.000 euro stanzati dalla regione, sviluppato su di un bando della stessa SDS da varie realtà del terzo settore pistoiese. I fondi usati per il progetto basteranno infatti a portarlo avanti ancora, solo per poche settimane. In questi mesi sono state circa 90 le persone che ospitate nella parrocchia sono state incontrate per recepirne i bisogni e trovare soluzioni, ha spiegato il vice sindaco relazionando sul progetto in consiglio comunale. All'interno delle quali si è cercato di individuare le maggiori fragilità, fragilità che sono di tipo psichiatrico, che sono di tipo legato alle dipendenze, così come ci sono situazioni da dover regolamentare da un punto di vista di permesso e di soggiorno e così come alcuni sono stati indirizzati verso i CAS e altri invece verso il SAI perché rifugiati. Quindi una situazione che grazie a chi ha vinto il bando e grazie a questa collaborazione all'interno, a partire anche da Don Massimo Biancalani ma anche per quanto riguarda la curia in prima persona il Vescovo, così come tutti coloro che offrono la loro azione di volontari. Ci sono moltissime delle situazioni di fragilità che hanno iniziato un percorso di accompagnamento. Per portare a termine il progetto ci vorrebbe ancora un anno, cercando di contribuire nell'aiutare i migranti a raggiungere un'indipendenza. Per far questo ovviamente occorre la disponibilità anche abitativa e da questo punto di vista speriamo che anche la curia possa fare la sua parte. Arriverà in regione la vicenda dei docenti che nonostante abbiano vinto un concorso sono a rischio licenziamento. Questa a causa della decisione del Consiglio di Stato è arrivata in seguito ad un ricorso. L'iniziativa del consigliere regionale pistoiese Marco Nicolai che ha annunciato un'interpellanza. Sono centinaia i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, anche toscani e pistoiese, ha spiegato l'esponente PD, che rischiano la revoca del ruolo e il conseguente licenziamento. Tutto in conseguenza dell'accoglimento del ricorso del Ministero relativo agli esiti del concorso 2021. Nell'occasione molti candidati furono impossibilitati a partecipare a causa del Covid e quindi successivamente ammessi a prove suppletive grazie alle quali entrarono in ruolo. nella sua interrogazione Nicolai ha chiesto alla Giunta Toscana se non ritenga opportuno attivarsi nei confronti del Governo affinché nell'immediato sia individuata una soluzione per la vicenda. In prospettiva siano posti in essere interventi normativi strutturali capaci di porre rimedio a situazioni particolari di assenza giustificata dai concorsi pubblici. Un po' di paura per un cane, per quello che sappiamo noi, ma magari è successo anche altri, che ha ingerito una sostanza velenosa in un'area di verde pubblico della città di Pistoia. Porto fuori lei tutti i giorni qui nel giardino, siamo arrivati a mezzogiorno come sempre, dopo una mezz'oretta che ero lì l'ho vista mangiare qualcosa, il mio ragazzo si è andato a giocare e ha trovato i denti blu. Quindi l'ha portata qui alla fontana, l'ha fatta vomitare per fortuna subito, è andata a casa a soccorrere, io nel mente sono venuta a portare cartelli, vigili e cose. Non una normale passeggiata col cane, non un pomeriggio al parco, come tutti gli altri. Un vero incubo a cielo aperto per Serena e Andrea, al piccolo parco in via Donatori del Sangue a Pistoia, dove la solita uscita con la piccola nanà stava per diventare tragedia, per del veleno per topi rinvenuto nell'area verde. Stavai giocando, gli sei visto tutta la bocca blu, noi, si è portata qui a bere e appena ha bevuto ha vomitato subito questo pezzo blu. Poi il mio ragazzo nel panico l'ha portata a casa, gli ha rifatta ribere, gli ha infilato la mano dentro la bocca, quindi ha rivomitato e lì per lì lei era spaventata per la situazione, però non è che stava male lì per lì. Ho chiamato il veterinario, per fortuna l'ha rassicurato quasi subito dicendo che fa effetto dopo 3-4 giorni, però è quella la preoccupazione, lo mangia un canino piccino, dopo 3-4 giorni non se ne accorge e ci rimane. Poi siete tornati, avete visto che il parco non era chiuso nonostante ci fosse il pericolo? Sì, perché lì per lì io sono andata a casa, ho scritto quei cartelli d'attenzione, sono tornata e c'era la pattuglia dei vigili, è arrivata, ha guardato un pochino, sì sì mandiamo alia e sono andata via, giardino aperto, dopo 20 minuti c'era Cani a giocare. Al che il mio ragazzo ha chiamato proprio il numero delle emergenze, al che è arrivata la forestale e ha chiuso tutto, ha mandato via tutte le persone e ha chiuso, ha fatto quello che dovevano fare insomma. Il parco ora si trova chiuso per permettere di fare controlli e togliere altre eventuali sostanze velennose al suo interno. Due punti interrogativi tuttavia permangono in questa tragedia solo sfiorata, chi sia stato l'artefice di questo gesto e il perché, domande che forse non troveranno mai una risposta, ma che mettono in guardia i possessori di un cane, perché la storia di Nanà sarebbe potuta accadere a chiunque, con un finale decisamente peggiore. A Quarrata aprono i cantieri sul torrente Fermulla, vi ricorderete a novembre fu uno dei guai peggiori per quanto riguarda il centro della città del mobile. L'alluvione nel centro di Quarrata è stata causata dall'esondazione del torrente Fermulla. Nei giorni scorsi sono partiti finalmente i lavori di sistemazione degli argini del torrente da parte del genio civile e la sistemazione della cassa d'espansione in via Pollaiolo, che accoglie oltre all'acqua del Fermulla anche quella del Tacinaia, da parte del consorzio di bonifica a Medio Valdarno. Siamo sull'argine del Fermulla, dove aveva trascimato il 2 di novembre. Il genio civile tramite la regione toscana ha incominciato a sistemare il primo lotto dei lavori che vanno fatti sul Fermulla, sono abbastanza importanti. Questo è un primo lotto dove aveva portato l'acqua a via Corradato a Montemagno e al centro di Quarrata. Poi ci sarà un secondo lotto a monte del ponte di Santa Lucia, dove andrà ripristinato l'argine dove passa anche l'aciclabile. Poi ci sarà un terzo lotto a valle vicino al Palazzo Comunale per risistemare i piastrelloni che contengano il Fermulla. Qui siamo sulla cassa a bocca tarata del Fermulla, cassa che ha aiutato tantissimo a proteggere Quarrata. Il consorzio ci sta lavorando già da un po', in questo momento sta allontanando i sedimenti che il Fermulla ha portato giù e li sta posizionando a protezione degli argini. Il consorzio ha predisposto un progetto per il miglioramento del funzionamento della cassa che ha presentato alla Regione tramite il commissario. Se la Regione lo ritirerà è importante e per noi è importantissimo. Speriamo che arrivino finanziamenti così possiamo portare a compimento il miglioramento della cassa. Bullismo e non solo se ne è parlato con i ragazzi grazie ad un'iniziativa dell'Istituto De Franceschi Pacinotti. L'Istituto De Franceschi Pacinotti di Pistoia ha organizzato incontri con gli studenti per parlare di tematiche importanti come bullismo, cyberbullismo e violenza di genere. Testimonianze e confronto hanno alimentato il dibattito che aveva il fine di sensibilizzare gli studenti a queste tematiche e cercare di creare occasioni di dialogo in tal senso durante l'anno e non solo nei giorni di ricorrenza. Ogni qualvolta noi incontriamo qualcuno che in qualche modo riteniamo sia diverso per mille motivazioni, pensiamo all'orientamento sessuale ma pensiamo anche alla lingua, alla religione, alla razza, dobbiamo sempre, sempre tenere presente che esiste un solo modo per confrontarsi e quello di rispettare sempre le idee e la volontà dell'altro. Quello che abbiamo cercato di fare Anna Maria Celesti, Roberto Vivarelli e io è quello di istillare almeno un seme di dubbio su quello che può essere un mondo di violenza e in particolare appunto un mondo che in questo momento sta esplodendo di violenza anche e soprattutto intrafamiliare. Adesso in tribunale abbiamo un tempo la maggioranza dei processi erano per droga, adesso la maggioranza dei processi sono per maltrattamenti in famiglia. Anche oggi ci siamo trovati con degli esponenti della società civile qui all'istituto dei Franceschi Pacinotti per parlare di temi scottanti. Oggi è toccato a quello del bullismo, cyberbullismo e violenza di genere. Purtroppo ancora oggi nel 2024 le cronache sono piene di avvenimenti in fausti e bisogna dare agli studenti delle chiavi di lettura per poterli comprendere ed eventualmente poter reagire. L'istituto in questo senso è il loro vicino. Parlate ragazzi, un consiglio, parlatene, parlatene. C'è la dottoressa Maggi che ha un'associazione Anna Maria Marino con gli sportelli anche anonimi. Quindi se avete dei problemi parlate, non vi lasciate sopraffare da quello che è il più, tra virgolette, forte in quel momento. Pistoia, la Valdinievole e l'intera Toscana erano a Milano, alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Pistoia e i cammini che la traversano passando per la montagna e la piana, la Valdinievole con le sue bellezze storiche e naturalistiche. Così la provincia si è presentata alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, il più importante appuntamento di settore che ha visto giungere nel capoluogo lombardo operatori da tutto il mondo. Evento cui il territorio pistoiese non è mancato partecipandovi in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, l'agenzia regionale che ha il compito di lavorare da fianco a fianco ai territori per la costruzione e promozione delle destinazioni dei prodotti turistici toscani. La Valdinievole, il suo ambito turistico, oltre che a illustrare le bellezze naturalistiche e storiche dei suoi tanti e affascinanti borghi e paesi, ha rilanciato il binomio con il termalismo, forte anche di Montecatini riconosciuta tra i beni UNESCO insieme ad altre realtà termali europee. L'ambito di Pistoia e della montagna è invece puntato sulle tradizioni medievali ed il cammino di San Jacopo, entrato da pochi mesi a far parte dell'Atlante dei Cammini della Toscana. Sono cinque quelli che si intrecciano in città, oltre a quello di San Jacopo, quello di San Bartolomeo, la via Francesca di Sambuca, la via Romea Germanica Imperiale e la via Romea Strata, una trasferta valutata positivamente dall'amministrazione comunale di Pistoia. Abbiamo presentato il calendario nazionale 20 delle città medievali, quindi per le rievocazioni storiche dove Pistoia ha avuto l'onore di fare il capofila per due anni, ora abbiamo passato il testimone a Viterbo, ma è una rete che sta crescendo dove a livello nazionale siamo già nove regioni coinvolte, oltre 25 comuni e quindi il turista sia italiano che straniero potrà scegliere una rievocazione storica secondo il momento in cui sarà in ferie. Allo stand di Toscana Promozione ho presentato il territorio di Pistoia e la montagna pistoiese e quindi questa è la nostra programmazione con una serie di eventi legati alla nostra città, legati al territorio, eventi anche unici che ci contraddistinguono rispetto alle altre città come un parco in città, come una parte delle tradizioni jacopee. Abbiamo portato anche le slide sulla Pop Art che con la Fondazione Musei aprirà una grande mostra nel mese di aprile, quindi una sinergia con tutti i portatori di interesse. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Pistoia, perché la provincia esiste ancora anche se con altre mansioni, si terranno domenica 17 marzo. Le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornata, dalle 8 alle 20, nell'unico seggio che sarà allestito nella Sala Nardi della sede dell'Ente in Piazza San Leone. Dieci saranno i consiglieri che verranno eletti con la consultazione per il rinnovo dell'Assemblea al voto, trattandosi di elezioni di secondo grado. Sono chiamati soltanto sindaci e consiglieri comunali in carica dei comuni di tutto il territorio. Quindi non andranno i cittadini a votare. Vi è piaciuta la prima serata del Festival di Sanremo? Tanti i cantanti in gara nella prima serata del Festival di Sanremo. Siamo andate a sentire che cosa ne pensano le persone che lo hanno seguito. Mi è piaciuta Angelina Mango, mi è piaciuta tanto Loredana Bertè. Mi è piaciuta la Bertè e la Fiorella Mannoia. Alessandra Moroso. Non è un Sanremo di una volta, è tutto cambiato. La Loredana Bertè. Anche il look? Perfetto. La Mangue mi è piaciuta tanto, tanto, tanto. La Mannoia, poi ho visto un pochino di Mengoni. Fiorella Mannoia, più di tutti. Dopo Rosa Chemical, si è spento tutti la televisione. Fiorella Mannoia ovviamente, la meglio. Irama, una bella canzone. Anche Gali mi è piaciuto molto, Gioriero l'ho ascoltato stamattina, mi ha particolarmente colpito. Non me l'aspettavo poi cantando in napoletano, invece mi è piaciuta. Annalisa, così mi piacciono questi cantanti qua, però non l'ho seguito fino alla fine. Ho visto solo Mahmood, a me piace la Mannoia. Senti, e tra i look femminili? La Mannoia l'ho vista molto raffinata. La Bertè cosa ne pensi? La Bertè ritrova un look ormai parte di sé, però ormai antico. Le scene sono diverse, sottorecchiabili, magari non rispettano il festival, però ora non siamo più come una volta. Ho guardato Ballero? Ma a me piace tanto il Rama, però Loredana Bertè... Non lo guardo, lo ritengo una ciofeca totale dal punto di vista musicale, interpretativo, non mi piace. Quindi non lo voglio neanche vedere. Di Mr. Rain e di Alfa anche, mi è piaciuto molto. E Jolier. Angelina Mango, anche Renga. Io ho sentito Alessandra Moroso e mi è piaciuta tanto la sua canzone. Ho visto solo la Bertè e devo dire che non mi è piaciuta. Mi sembra sia una persona che è rimasta anche senza voce e non è la Bertè di una volta. Fiorella Mannoia. Anche il look? No, il look no, era troppo sposina. Angelina Mango. A me mi è piaciuto tutto, tutta la serata, mi sono divertita, mi sono sembrati bravi tutti. E viva Sanremo! E allora, buon festival di Sanremo. Sono stati raccolti quasi 900 euro dalle studentesse e dagli studenti dell'Istituto Capitini di Agliana a favore della ricerca sul cancro, grazie alla vendita dell'arancia e delle marmellate nell'ambito del progetto Le Arance della Salute, promosso dalla Fondazione AEC in collaborazione con il Ministero della Salute, dell'Istruzione, con il coinvolgimento degli studenti della classe seconda A dell'Istituto Linguistico, con il coordinamento delle docenti Alessandra Sclocco e Antonella Ciapini. Andiamo a Sovigliana, sconfiniamo un pochino fuori provincia, nel comune di Vinci, dove è stato inaugurato il quinto fontanello di acqua di alta qualità gestito da Acque S.P.A. E il quinto sul territorio comunale di Vinci si trova a Sovigliana, in piazza 8 Marzo, una zona ad alta concentrazione abitativa. Il fontanello, il secondo realizzato da Acque Spa, eroga acqua di alta qualità direttamente prelevata dalla rete idrica, grazie ad un sistema che elimina il sapore del cloro. Gli obiettivi del gestore e dell'amministrazione comunale sono tre, offrire alle famiglie un'opportunità di risparmio, concorrere alla riduzione dei rifiuti e avvicinare la popolazione al consumo dell'acqua del rubinetto. È una triplice funzione importante e per questa ragione il comune di Vinci quasi ogni frazione è dotata di un fontanello, dell'acqua buona e sono molto molto utilizzate. Pensiamo anche ad altre ubicazioni in altri luoghi, per ora abbiamo coperto i luoghi più importanti, sicuramente rimangono qualche altro pezzo di territorio scoperto, troveremo modo e forme per colmare questa mancanza nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Questo è il 72esimo fontanello di acque che apre nel perimetro, diciamo che viene servito di acque, è un perimetro importante perché si parla di 55 comuni, si parla di 800.000 abitanti serviti e questi fontanelli danno anche un segnale importante, non soltanto legato al valore dell'acqua come risorsa preziosa, come risorsa che deve essere valorizzata perché questa acqua è l'acqua del nostro acquedotto. Da questo in particolare che cosa fornisce? Questo fornisce acqua del nostro acquedotto, naturalmente ha una sua particolarità perché viene semplificato in termini di odore, quello che viene dall'acqua dell'acquedotto del nostro rubinetto ha bisogno di essere un po' decantato perché c'è questo odore che dà noia. Qui attraverso un processo di meccanizzazione riesce a togliere il cloro e quindi l'acqua è subito disponibile e non ha quell'odore che ha invece quando viene direttamente dall'acquedotto. Il 7 febbraio di 14 anni fa, era il 2010, in seguito a un incidente di rally, se ne andava Franco Ballerini, sicuramente gli appassionati, gli sportivi lo conoscevano, ma lo hanno conosciuto poi anche tutti gli altri, Franco Ballerini era un ex campione di ciclismo, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana proprio di ciclismo. Oggi c'è stato il ricordo, sono state diverse iniziative, al cimitero di Casalguidi, poi la messa, poi nella sala consigliare del comune una premiazione, le iniziative sono terminate pochi minuti fa e quindi noi vi proporremo poi il servizio nelle edizioni del telegiornale di domani. Ora però ci lasciamo qualche istante, poi la pagina sportiva, poi ci ritroviamo per le ultime notizie.